lui e alessandro manucci 44 anni di milano segni particolari pigrizia cronica mete preferite ristoranti pluristellati alberghi extra lusso letti extra lunch non viaggia mai senza il biglietto per tornare a casa sua ha scelto di fare l'ispettore per il patrimonio non esco per seguire i suoi ideali e se li prende limina e questo è wikipedia il suo collega insieme sono l'uno la metà perfetta della mela di qualcun altro in prima tv assoluta turisti per dimax posti assurdi e dove trovarli dal 27 giugno alle 22 20 su dimax canale 52